Oh, ma buonasera! Nome? Pierangelo Cognome? Fevola Mestire? Musicista C'è troppo traffico! Era una notte d'acqua catinelle Ma siamo nel traffico? Nel traffico Quali sono i tuoi interessi nella vita? Mi interessi sono musica, pittura e uscire con gli amici Ed ero uscito senza le pretelle Quando fui giunto presso un cimitero Com'era buio mamma mia com'era nero Programmi per il futuro, Pierangelo Per il futuro Stiamo a Mergellina E passeggiando poi di tomba in tomba Bella Sanzone! Una bionda, mamma mia che bionda Era il fantasma della zia Gioconda Che ripuliva la sua tomba nera fonda No, sono più chiaro perché? Hobby? Moto e auto, correre Cosa ti piace nella vita? Correre su moto e auto Le donne? Sempre la stessa cosa No, gli uomini Brava comunque! Grazie! Eh, finisci la nostra! Però l'hanno sempre detto che non stare in te nato In nato? Cioè non hai mai nato? Che lavoro fai? Sto per avere in gestione un negozio di abbigliamento E di notte? Normo Ma ciao! Ma ciao! Il mio hobby nella vita è leggere, uscire con gli amici, moto, auto Il tuo piacere preferito? Il mio piacere preferito? Me la formula in maniera diversa Che fai che sussate le cani? Che faccio? Che significa che fai che sussate le cani? Nel senso che... Sono una santa Il grip quando viene ripiegato, veramente Possiamo riprendere? Ti possiamo riprendere? Un parere sull'uomo? Stronzo L'amore? Non esiste L'amicizia? Se si trova quella vera aiuta nei momenti difficili della vita Sei sincera? Sì Verso tutti? Sì Ci ha detto una struzione Ha sorriso, se può fare? Ma chissate, ma non so Ma tanto usciremo su YouTube, dillo che usciremo su YouTube Vabbè sì Ciao Ciao Che tipo sei? Generalmente allegra, non apatica Solare Dimmi Dani Voglio andare a ballare Sì Tu che vuoi fare? Io? Vabbè sì Vabbè sì Vabbè sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.